degli economisti di sinistra che trovate magari pure i convegni e qui diciamo che l'economista, quello di destra, liberale, ha l'obiettivo di portare gli interessi del capitale gli interessi del capitale sono toglie mazza dell'interno dell'università un aneddoto mi fa piacere raccontarvelo che riguarda... non era top of è un altro che sono no per quell'economia recentemente, non fresco io ho fatto adesso il dottorato con un marxista mascherato che nel frattempo quando giocava la maschera stava negli Stati Uniti a fare il dottorato e riuscì a prendere questo articolo di Prescott e Prescott stesso gli aveva detto guarda mi hanno chiesto di fare un articolo in cui io dimostro che i sindacati all'interno delle imprese abbassano la produttività e mi hanno detto che se faccio questo articolo, questo pedo, che chiamiamo noi, che è una serenità strana vecco il Nobel il mio amico l'ha letto e mi era immediatamente criticato prima che uscisse e questo ha fatto sì che Prescott prendesse il Nobel ma solo due anni dopo insomma perché si basava tutto quanto sull'ipotesi che i lavoratori cominciavano a percepire salario solo una volta in pensione e come dice quando lavora dietta e mangi, non fa niente, è importante che ci sia potenza tra ipotesi e tesi poche ipotesi si vanno da patinare per cui rendetevi conto che il ruolo dell'economista è abbastanza complicato cioè Franco Pallamo al di là del fatto che il compagno e l'amico lo conoscono nella vita è di una capacità straordinaria cioè quando loro erano giovani nel gruppo degli economisti che stanno alla Sapienza era evidentemente quello dell'intelligente, lo riconosce pure il caffè, lo diceva lui però evidentemente quando ha toccato Marx è rimasto scottato e quindi si sosteneva altre teorie, è andato avanti, è andato la guerra e infatti non mi hanno messo nell'anno io per ora riesco a fare questo, lo dico sempre perché ho la copertura del Banca Mondiale che mi hanno chiamato a lavorare lì, dei compagni, un altro compagno del Milano che stava in fondazione diversi anni fa e quindi ho la copertura politica e a me nessuno mi può venire di niente nel senso che lavori Banca Mondiale, mazzista li spiazzo abbastanza per cui va tutto bene però altrimenti ero stato estromesso dall'università per questa ragione perché Marxista non aveva nessuno, non aveva un'università è una questione ideologica e politica